ciao ragazzi scusate me lo sovra pensiero questo è uno di quei video che non avevo programmato per questo sto filmando in una stanza diversa dal solito come potete vedere col mio telefono in pratica succede che in questi giorni mi è tornata in mente l'idea di mettere insieme di provare a mettere insieme un gruppo di appassionati per produrre video per youtube è vero vi ho già letto tante volte che ultimamente ho poco tempo però se ci si divide il lavoro e si collabora secondo me anche con poco tempo si possono fare cose migliori magari anche di più dunque in mente di proseguire quei video tema musica quindi video musicali sia di improvvisazione alla chitarra sia video discorsivi in più vorrei cose che vi avevo già accennato però non ero ancora mai riuscito a mettere in pratica vorrei provare ad aggiungere video di manutenzione alla chitarra banalmente dal cambio corde pulizia manico sostituzione componenti otti quello che si può fare cose così così però per poter realizzare poter realizzare queste mie idee quindi come vi dicevo poco fa mi servirebbe anzi mi tornerebbe molto utile trovare persone che condividano la mia passione per la musica ma anche solo gli ascoltatori e che dividono con me il lavoro di scrittura dei testi dei video discorsivi o che comunque mi aiutino con il trovare idee per nuove video però se magari ci fosse anche qualcuno che si occupa del montaggio almeno di alcuni almeno video non sarebbe poi così male cioè ci si potrebbe dividere tranquillamente il lavoro tanto poi se non volete andare davanti alla camera ci vado io su quello non ci sono problemi come età cerco persone tra i 18 e i 30 anni l'ideale sarebbe forse abitassero zona Cuneo o Fossano dove abito io però anche se fossero di Savigliano o addirittura anche di Torino ma che vada ci si mette d'accordo ci si trova a metà strada oppure una volta qui zona Cuneo o Fossano una volta zona Torino comunque se vi può interessare provare a partecipare a questo mio progetto a questa mia idea quello che ho in mente ovviamente contattatemi via Facebook o Instagram o anche via mail volendo troverete i link alle mie mail, ai miei profili, Facebook e Instagram nelle informazioni del canale quindi contattatemi tramite questi link con messaggio privato mi raccomando messaggi privati presentandovi quindi nome, età, città di provenienza o almeno zona di provenienza se siete delle parti di Torino o di Cuneo e magari anche spiegando come vorreste aggiungervi, diciamo cioè partecipare banalmente portandomi solo le vostre idee o aiutandomi nella scrittura dei copioni per i video discorsivi come vorreste dare il vostro contributo e poi io vi ricontatterò per metterci d'accordo per incontrarci di persona o per riuscire a parlarne di persona meglio e così magari si può anche già tirare giù qualcosa fatemi sapere presto vostre notizie perché altrimenti rischio di dover ridurre la quantità di video che usciranno che escono sul mio canale perché perché facilmente facilmente, dicevo a partire da gennaio non è ancora sicuro però è probabile a partire da gennaio aggiungerà altri impegni e quindi si ridurranno ulteriormente i giorni a disposizione che avrò per i video per produrre video e quindi rischio di non riuscire a mantenere l'obiettivo di almeno un video alla settimana quindi fatemi sapere presto vostre notizie qualcuno di voi e vi aspetto ciao ciao Grazie a tutti.